Tutti sembrano parlare di SD-WAN. Gartner, nel suo rapporto del 20 settembre 2021, dice che i manager di rete dovrebbero selezionare soluzioni SD-WAN e SASE per collegare i loro siti e applicazioni. Perché SD-WAN? Probabilmente avete sentito dire che SD-WAN vi permette di sbarazzarvi del vostro costoso accesso a MPLS e sostituirlo con un accesso internet più economico. Gartner prevede che entro il 2025 il 40% dei siti aziendali utilizzerà solo la connettività WAN Internet. Ma è questa la ragione principale per pensare a SD-WAN? No, SD-WAN è molto di più. Il passaggio a SD-WAN è una trasformazione digitale, un salto tecnologico. Vi faccio un esempio. Pensate alle WAN di diversi anni fa che consistevano principalmente in accessi punto punto e poi arrivarono le reti MPLS. Cosa hanno portato? Solo risparmi? No, hanno portato una WAN più intelligente. Topologie ottimizzate, any to any. Ci si può dimenticare delle topologie Hub & Spock con i loro cogli di bottiglia. Aggiungere o rimuovere sedi alla WAN diventa un gioco da ragazzi. Traffico criptografato sicuro. Prioritizzazione del traffico a livello di protocollo, eccetera eccetera. Quindi è stata un'evoluzione tecnologica che ha reso la WAN più intelligente, migliorando le prestazioni. Con SD-WAN succede qualcosa di simile. Ora la vostra WAN arriva a controllare ciò che accade fino al livello delle applicazioni. Questo vi permette di dare priorità al traffico generato dalle vostre applicazioni più importanti, instradare in modo intelligente e dinamico il vostro traffico. Probabilmente avete sentito parlare di Sasi. La vostra WAN è in grado di includere le funzionalità di sicurezza che fino ad ora avete fatto con dispositivi dedicati aggiuntivi. E Colt SD-WAN è integrato direttamente con i principali cloud provider, quindi il collegamento con loro è immediato. Aggiungere nuovi siti quasi automaticamente con Zero Touch Provisioning. Quindi pensiamo a SD-WAN come un'evoluzione tecnologica che migliorerà le prestazioni della nostra WAN. E cosa può portare Colt nella SD-WAN? La forza della nostra rete globale, unita alla profonda esperienza dei nostri partner tecnologici, offrirà qualcosa di nuovo alle aziende su scala mondiale. Abbiamo implementato una soluzione SD-WAN sulla nostra rete con Versa Networks e, recentemente, con VMware, leader di mercato nella tecnologia SD-WAN. Non ci limitiamo a rivendere SD-WAN, siamo esperti della nostra rete, con i nostri ingegneri che gestiscono la nostra soluzione SD-WAN. Con un modello di servizio flessibile, gestione nelle mani del cliente, dandovi controllo e flessibilità assoluti, gestione da parte di Colt, modelli ibridi, utilizzando non solo l'accesso fornito da Colt, ma anche dal cliente, compresa la larghezza di banda su richiesta. E, naturalmente, la vasta esperienza SD-WAN di Colt in tutti i paesi in cui siamo presenti, in Europa, Asia e Nord America. Se state pensando di migrare la vostra WAN a SD-WAN, contattateci o almeno date un'occhiata a colt.net.